Dagli uno switch alla tua bicicletta! Sfruttando la stessa piattaforma che agli appositi supporti a slitta potrai portare con te un lucchetto del tipo a frusta richiudibile certificato Soul Secure Bronze con una lunghezza di ben 85 cm per le tue pedalate urbane commissioni o per andare a lavoro in bicicletta. E durante le tue uscite sportive agganciare il supporto porta borraccia. Se il tuo bike to work è più lungo di quello che dovrebbe essere allora potrai portare entrambe al seguito perché il supporto per il lucchetto all'occorrenza può essere anche agganciato alla cintura. Gran ficata questo switch!